ciao a tutti oggi prepareremo la torta fiesta il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa ingredienti sono per il pan di spagna noi l'abbiamo preparato un giorno prima e ve lo consigliamo anche a voi vi rinviamo alla nostra ricetta del pan di spagna alla panna dopodiché dovrete togliere la parte superiore e i bordi laterali e tagliarle in mezzo per la crema abbiamo il latte succo d'arancia uova zucchero farina per la bagna acqua zucchero semolato succo d'arancia ponce all'arancia e latte per la glassa cioccolato fondente e latte i quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it diamo il via alla ricetta iniziamo subito a preparare la bagna in quanto poi deve raffreddare perché poi deve incorporare l'alcol andiamo a versare all'interno del boccale l'acqua e lo zucchero e andiamo a scaldare il tutto per 5 minuti 100 gradi velocità 1 adesso andiamo ad aggiungere una parte del nostro succo di arancia e il latte e andiamo ad amalgamare il tutto per 10 secondi a velocità 8 adesso trasferiamo il nostro composto in una ciotola e lo lasciamo raffreddare non appena si sarà raffreddato aggiungeremo il nostro ponce all'arancia e lo mescoleremo con un cucchiaio adesso andiamo a preparare la nostra crema all'arancia senza lavare il boccale andiamo a mettere gli ingredienti quindi andiamo a mettere il latte il resto del succo di arancia andiamo a mettere le nostre uova lo zucchero e la farina e andiamo a cuocere il tutto per 8 minuti 90 gradi velocità 3 la nostra crema all'arancia è pronta e andiamo a trasferire in una ciotola il nostro composto per la bagna si è raffreddato adesso andiamo ad aggiungere il nostro ponce all'arancia e lo andiamo a mescolare dopodiché utilizzeremo per bagnare il nostro pan di spagna una bottiglia e nel tappo noi abbiamo effettuato dei fori con uno stuzzicadenti quindi andiamo a riempire la nostra bottiglietta iniziamo a ponceare il nostro pan di spagna dopo aver ponciato per bene la base della nostra torta andiamo a farcirla con la crema andiamo a livellare il composto su tutti i ladi dopodiché andiamo a posizionare l'altro disco di pan di spagna prendiamo la nostra bagna e andiamo a ponciare anche la parte superiore dopo aver ponciato per bene anche la parte superiore andiamo a posizionare in frigo la torta e prepariamo la nostra glassa adesso andiamo a preparare la nostra glassa mettiamo nel boccale il cioccolato con lente lo andiamo a tritare per 7 secondi a velocità 8 andiamo ad aggiungere il latte e andiamo a sciogliere il tutto per 5 minuti 50 gradi velocità 2 la nostra glassa è pronta andiamola a trasferire all'interno di un boccale e poi glasseremo la nostra torta andiamo a prendere la nostra torta dal frigorifero e andiamola a glassare torta fiesta grazie e alla prossima ricetta e andiamo a prendere la nostra glassa